Vigili promossi in regione, De Luca sotto inchiesta, il governatore nel registro degli indagati per aver trasferito quattro vigili da Salerno nel suo staff a Napoli. L'inchiesta dopo l'incidente contro mano al rione Carmine. De Luca commenta, inchiesta vecchia di tre anni, De Magistris attacca, tra noi distanziamento etico e politico. Schianto in autostrada, morto nel Salernitano, ancora una tragedia della strada sulla A2 nei pressi di Campania, ha perso la vita un ucraino di 30 anni, residente a Calabritto, nell'Avellinese. Un altro incidente nel Foggiano, morti marito e moglie di Torella dei Lombardi. Covid, ricoveri sospesi, otto reparti in tilt, ancora una volta gravi disagi al Cardarelli per i casi Covid registrati nei reparti tra pazienti e personale sanitario. Contagi complessivamente in calo. Il governatore De Luca avverte test sierologici obbligatori in Campania per il personale scolastico. Avellino, incubo, focolaio, ora è di nuovo psicosi. Altri cinque contagi in città legati alla famiglia del dipendente della provincia preoccupa il caso dell'estetista di Montefredane per i contatti avuti. Tre positivi nell'Avellino Calcio, sospesi gli allenamenti. Le paure della gente al microfono di 8 Channel. Regionali e scontro sulla terra dei fuochi. Caldoro e Ciarambino, due degli avversari del governatore in tour elettorale nella terra dei fuochi, accusano sull'ambiente la regione ha fallito. Venerdì il ritorno di Salvini a Napoli, ma fa discutere ancora il post di Caldoro a favore di De Magistris. Benevento dice addio all'ex assessore Castiello, aveva 62 anni, si è arreso ad un male terribile e consigliere comunale dal 2001. Era stato protagonista nelle due consigliature del sindacato di Fausto Pepe, da assessore all'ambiente e poi delegato allo sport. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. Cominciamo con il primo piano dedicato alla nuova inchiesta giudiziaria che si abbatte su Vincenzo De Luca. La procura di Napoli ha iscritto il governatore nel registro degli indagati per presunti favoritismi ai suoi quattro autisti trasferiti da Salerno alla segreteria della regione. Le ipotesi di reato sono falso e truffa. Per De Luca è un atto dovuto. La vicenda è vecchia di tre anni, con la sua segreteria risparmiati 84 mila euro, ha detto il governatore. Ma sono tante le reazioni nel mondo politico. Vediamo il servizio di Giovanni Battista Lanzilli. Il governatore Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa. Sono le ipotesi di reato sulle quali sta lavorando la procura di Napoli. Il riferimento è alla vicenda dei quattro autisti salernitani che De Luca ha trasferito in regione nella sua segreteria. Indagini partite dall'incidente avvenuto nel settembre di tre anni fa a Rione Carmine, quando l'auto del presidente tamponò una giovane in sella ad uno scooter, imboccando contro mano la strada. Da lì sono partite le verifiche dei giudici Ida Frongillo e Vincenzo Piscitelli. Nel mirino sono finiti quattro autisti promossi, secondo l'ipotesi accusatoria, senza formazione e curriculum specifico a ruolo di segreteria, con relativo aumento di stipendio. Ricostruzione già respinta da De Luca, che nelle scorse settimane ha fornito la propria versione dei fatti alla procura partenopea. La vicenda, tenuta finora riservata, è diventata di dominio pubblico dopo le rivelazioni del quotidiano La Repubblica. Il governatore, questa mattina a Salerno, per un evento all'Hotel Mediterranea, non ha risposto alle domande dei cronisti di commentare la vicenda giudiziaria allargando le braccia e andando via. Ha poi affidato ai social il suo pensiero. Uno straordinario scoop giornalistico perché si scopre ora dell'indagine aperta da tre anni sull'organizzazione della segreteria del presidente della regione. De Luca parla di un'indagine come atto dovuto e ricorda come rispetto alla gestione Caldoro i costi siano stati ridotti di 84 mila euro all'anno. Basta perdere tempo e farsi distrarre la chiosa del governatore. Fiducia nel lavoro della magistratura è stato invece manifestato da Mara Carfagna a Salerno per una iniziativa elettorale sulle regionali. Non ho mai commentato le inchieste, né quando hanno riguardato avversari politici, né quando hanno riguardato amici o alleati. Lasciamo lavorare i magistrati, sono certa che come sempre sapranno fare il loro lavoro con imparzialità ma soprattutto con celerità, visto anche le condizioni nelle quali ci muoviamo. Per Valeria Ciarambino De Luca è un'impresentabile e per fare carriera in regione basta essere amici del governatore. Durissimo l'affondo di Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra. Il modello del clan De Luca, a prescindere dalle vicende giudiziarie, il clan De Luca favorisce solo gli amici. Poi rispettando la legge, rispettando la legge, questo lo decide la magistratura. Per noi è una denuncia politica enorme. Altrettanto netto il giudizio del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Su De Luca mi limito a dire che il nostro rapporto è caratterizzato da un forte distanziamento etico e politico. La cronaca, incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada statale 272 nel territorio di San Severo in provincia di Foggia. A perdere la vita una coppia di anziani avellinesi, marito e moglie di 71 e 68 anni, di Torella dei Lombardi, sono deceduti in seguito allo schianto tra il monovolume sul quale viaggiavano e una berlina Mercedes. Le vittime Irpine stavano tornando da una vacanza al mare. E ancora un incidente mortale sulle strade del Salernitano. Lo schianto questa mattina sulla A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Contursi e Campagna in direzione nord. Un'auto guidata da un trentenne residente a Calabritto, in provincia di Avellino, i due dirigini ucraine, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un camion violentissimo. L'impatto che è stato fatale per il conducente della vettura è inutili tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente è anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell'ANAS. La zona è stata interdetta al traffico per circa due ore, con notevoli conseguenze per la circolazione. L'auto avrebbe tamponato il mezzo pesante. La vittima è stata così sbalzata fuori dal parabrezza. Coronavirus in Campania, numeri in calo. Ieri 100 le persone risultate positive. Al Cardarelli continua però l'allarme per i casi di Covid registrati nei reparti. Tra pazienti e personale sanitario, il manager ha disposto la chiusura di otto reparti. Vediamo. Sono dati in calo quelli relativi al Covid in Campania. Ieri l'unità di crisi ha registrato 100 nuovi positivi su 5.427 tamponi. Di questi, 5 provenienti dalla Sardegna e 16 connessi a rientri in Campania. Ai 100 nuovi casi, inoltre, vanno aggiunti altri 83 su 2.139 tamponi effettuati negli ultimi 4-5 giorni. Ma se i contagi sono in calo, si registra comunque un allarme all'ospedale Cardarelli, dove sono stati sospesi temporaneamente i ricoveri in otto reparti per effettuare una sanificazione urgente. Solo nella giornata di ieri, l'azienda sanitaria ha riscontrato dagli esiti dei tamponi 16 casi positivi tra i pazienti. E tra il personale sanitario, un infermiere e due operatori sociosanitari della medicina. Sul fronte scuola, invece, c'è la data ufficiale della riapertura. Si comincia il 24, ma per rientrare nelle classi, gli insegnanti dovranno sostenere obbligatoriamente il test per verificare l'eventuale contagio. A livello nazionale si è deciso che il volontario in Campania dovrà essere obbligatorio. E quindi abbiamo provato un piano per gli screening che consentirà di affiancare il lavoro dei medici e medicina generale e di avere i tamponi con il risultato definitivo già entro le 24 ore. Abbiamo deciso di finanziare come regione l'acquisto di termoscanner perché ci è parsa poco credibile l'idea del Ministero della pubblica istruzione di misurazione della temperatura degli alunni a casa. Sono 12 nuovi casi che si contano nel Salernitano, di cui 2 a Pertosa, 1 a Vibonati, 2 a Salerno, 2 a Scafati, Angri e 6 a Eboli. Nel Sannio altri 7 positivi e una guarigione. I casi si registrano a Montesacchio, Reino e nuovi casi anche nel capoluogo. Avellino e l'Irpinia fanno i conti ancora con i numeri preoccupanti. Cresce la paura tra la gente nel capoluogo, altri 5 contagiati, mentre l'US Avellino scopre 3 positivi stop agli allenamenti nel ritiro di Sturno. Vediamo. Ancora una giornata nera in Irpinia sul fronte contagi, 17 in tutta la provincia, 5 solo nel capoluogo, quasi tutti legati al cluster del dipendente di Palazzo Caracciolo. In città la preoccupazione della gente è palpabile. Abbastanza, sì, si vede, si sente di nuovo il problema. Sono molto preoccupata, sì, perché ho dei bambini piccoli e sono preoccupata. Il 25% porta la mascherina correttamente, il 25% la porta sotto il naso, il 50% non la porta proprio. Ma quando cominciano a fare i verbali? Sì che siamo preoccupati, perché c'è mancanza di responsabilità da parte dei giovani. Mi raccomando, la mascherina, quando c'è assembramento, la mascherina, la mascherina, la mascherina. E preoccupa anche il caso di Montefredane, dove a rimanere contagiata sarebbe stato un estetista. Ora si sta cercando di ricostruire la filiera dei contatti della donna, potenzialmente decine di persone dal momento che effettuava anche prestazioni a domicilio e non solo in paese. C'è attesa soprattutto per i tamponi sui familiari. Intanto tutti i negativi tamponi nel reparto di ortopedia del Moscati, dopo il caso dell'anziana di Montemiletto caduta in casa, è risultata positiva poco prima di essere dimessa. E tra il capoluogo e Sturno c'è fibrillazione anche per i tre positivi dell'US Avellino. Si tratta di un calciatore, di un membro dello staff tecnico di Braia e di uno dell'area organizzativa della società Biancoverde. Sospesi gli allenamenti nel comune Altirpino, in queste ore si stanno sanificando tutti gli ambienti comuni ai tesserati. Le elezioni regionali Caldoro e Ciarambino in tour nella Terra dei Fuochi attaccano De Luca. Ha fallito venerdì, intanto torna Salvini a Napoli, ma fa ancora discutere il post di Caldoro a favore di De Magistris. Vediamo. Rifiuti e ambiente sono i temi al centro della campagna elettorale per le regionali. Valeria Ciarambino, candidata per il Movimento 5 Stelle, promette che la Terra dei Fuochi sarà la sua priorità di governo. Il tema della Terra dei Fuochi è un tema che non va affrontato come uno spot, ma con serietà e a 360 gradi. A partire dalle attività produttive che smaltiscono illecitamente i loro rifiuti speciali, che diventano carburante da incendiare nei rughi tossici. Incentiveremo le imprese per lo smaltimento legale dei rifiuti. Deve diventare non più conveniente bruciare i rifiuti, ma deve diventare conveniente smaltirli legalmente e rafforzeremo quella che si chiama economia circolare. Anche Stefano Caldoro continua il suo tour in Terra dei Fuochi per tentare la rimonta nei sondaggi. Ieri da Giuliano altri attacchi al governatore Vincenzo De Luca, stavolta puntando tutto sullo smaltimento delle ecoballe. Questo scandalo, scandalo nazionale, europeo, mondiale, della politica che ha fallito. Erano venuti qua il Presidente del Consiglio Renzi, insieme al Presidente della Regione De Luca. Tutto questo ecoballe, questo scandalo, non va via. De Luca ha fallito. Intanto, nel centro-destra, fa discutere ancora il post di Caldoro con le dichiarazioni a favore del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ma Caldoro ha giusto il tiro. Non capisco le critiche, ho sempre fatto opposizione e dato un giudizio negativo su questi dieci anni di amministrazione d'EMA. Poi c'è il rapporto personale e istituzionale. Il tema vero, dice Caldoro, è che lo scontro tra Regione e Comune uccide Napoli. Intanto, venerdì prossimo, il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà a Napoli per lanciare la volata Caldoro, che dovrà fare a meno della presenza di Berlusconi, ricoverato per Covid a Milano. Mondo politico in luto a Benevento per la morte di Enrico Castiello, 62 anni funzionario regionale. L'ex assessore consigliere comunale di Benevento si è spento dopo aver combattuto contro un brutto male. Il consigliere comunale di opposizione nel 2001, eletto nelle file del Partito Popolare, aveva poi aderito alla Margherita e infine al Partito Democratico. Era stato protagonista nelle due consigliature del sindacato di Fausto Pepe, assessore all'ambiente e poi delegato allo sport nella seconda. Per lui il cordoio di tutto il mondo politico. E proprio l'ex sindaco Pepe, lo ha ricordato tra i primi attraverso Facebook, ha detto, ricordo il tuo immenso sorriso, la tua grande disponibilità, la tua formidabile amicizia. Mi mancherai tanto, amico caro, e mancherai all'intera città. Troppi misteri ancora da chiarire sull'infanticidio di Rocca Piemonte. Nel Salernitano in arrivo, nei prossimi giorni, il ris dei carabinieri da Roma nell'abitazione dei genitori della piccola, gettata dal secondo piano, è morta per un trauma cranico. Continua senza sosta il lavoro degli investigatori sul caso della neonata di Rocca Piemonte, trovata morta in una siepe. Le indagini, coordinate dal PM del Tribunale di Nocera Inferiore, Roberto Lenza, proseguono con l'arrivo, nei prossimi giorni, nell'abitazione dei genitori della bimba dei carabinieri del RIS di Roma. Toccherà agli uomini del reparto investigazioni scientifiche effettuare un nuovo sopralluogo nella casa dei due indagati, il padre e la madre della bimba, materia di approfondimento le tracce ematiche trovate all'esterno e all'interno della casa, mentre si attende proprio il risultato del DNA per accertare la paternità della neonata. Il 47enne ha infatti dichiarato al GIP di non essere certo di essere il padre della bimba e che non era a conoscenza della gravidanza e neppure che la moglie avesse partorito. Si era allontanato di casa all'inizio dell'anno per poi farvi ritorno nei mesi scorsi con il figlio, 17enne, per problemi con la donna, affetta da tempo, da disturbi di natura psichiatrica, da ricostruire anche la data del parto e quanto la neonata, nata vive e uccisa da un trauma cranico, causato dalla caduta dal secondo piano, sia rimasta nella siepe prima di essere trovata da un vicino. Oggi un incontro al Comune di Benevento per la vertenza rifiuti, istituito un tavolo permanente per far ripartire lo stir di Casalduni. Vediamo. Un tavolo permanente per lavorare al destino dell'impianto stir di Casalduni, fermo da ormai due anni dopo l'incendio che lo ha devastato nell'agosto del 2018. È quanto emerso dalla riunione che si è svolta questa mattina a Palazzo Musti alla presenza di tutti gli amministratori parte della vertenza. Questo tavolo diventerà permanente e sarà svolto presso gli uffici della provincia a cura del Presidente Di Maria per fare in modo che si navighi tutti nella stessa direzione. Abbiamo chiesto anche la partecipazione di parte di un referente per quanto riguarda la Regione Campania perché il nodo fondamentale, quello da sciogliere, è liberare lo stir dei rifiuti. Se non si fa questo e quelli che stavano sul tavolo oggi non hanno la disponibilità economica per farlo l'intervento, quello che serve, quello della Regione. Liberare lo stir, metterlo a norma e farlo ripartire. E durante l'incontro l'annuncio del pagamento delle aspettanze dello scorso gennaio dovuti ai lavoratori che hanno atteso in presidio la fine dell'incontro ribadito la necessità di un intervento urgente per l'impianto che dovrebbe essere già operativo con l'impegno della provincia. Per l'impiantistica ci sono 900 mila euro di finanziamenti già avuti dalla Regione che stanno lì. I lavori hanno iniziato ma non sono finiti. E noi stiamo in stand by. Due anni di inerzia da parte della politica e noi comunque stiamo ancora qui a chiedere, a fare... Vediamo che anche tanti sindaci che lamentano l'aumento della Tari poi non li vediamo in piazza che comunque si lamentano verso la provincia. non li vediamo in piazza, tanto comunque chi è che paga l'utente. Ennesima beffa per i lavoratori della Novo Legno. La fabbrica Irpina è chiusa ormai da quattro mesi. Il gruppo Fantoni produrrà banchi per la ripartenza scolastica ma non avverrà nello stabilimento di Arcella. La Novo Legno è chiusa ormai da quattro mesi ma non sono finite le beffe per gli operai della fabbrica di Arcella. Il gruppo Fantoni, dopo aver rifiutato la cassa integrazione per il Covid dopo aver deciso di produrre gli stessi manufatti solo ad Osoppo adesso farà parte di un pool di imprenditori per la realizzazione dei banchi per la ripartenza delle scuole. Una bella mole di lavoro che il gruppo Fantoni avrebbe potuto affidare alla fabbrica Irpina e invece non sarà così. Sicuramente poteva essere un'occasione. Quello che noi chiedevamo all'epoca, insomma, un anno fa di far rimanere agganciati questi lavoratori affinché si potessero creare quelle condizioni per far riaprire, far rimettere in moto lo stabilimento. Chiedevamo di allungare la cassa integrazione e oggi probabilmente si sarebbero potuti fare ragionamenti diversi. E' chiaro che questa avvertenza non l'ha supportata nessuno dobbiamo dire la verità, né la politica locale, né regionale né nazionale ognuno di loro ha fatto la propria passerella là davanti ai cancelli parlando direttamente pure con i lavoratori però alla fine la conclusione è stata questa che i lavoratori purtroppo hanno perso il proprio posto di lavoro e adesso si trovano in naspi. In Irpina e l'intero polo del legno a soffrire aggiunge il segretario CGL Franco Fiordellisi la crisi della Javarone Legnami di Calitri della Holzbau Sud completano un quadro del settore a tinte fosche. Una fiaccolata per dire basta alla violenza sulle donne San Valentino Torio ha voluto ricordare così Luana la 31enne accoltellata e gettata in un pozzo dall'amante questa mattina i funerali della donna. Un corteo silenzioso illuminato dalle candele soprattutto un messaggio forte per dire mai più San Valentino Torio si è stretta intorno alla tragedia di Luana Rainone la 31enne accoltellata e poi gettata in un pozzo da Nicola del Sorbo con cui la giovane intratteneva un rapporto sentimentale una fiaccolata per dire basta ai femminicidi e alla violenza mortale che troppo spesso si abbatte sulle donne un monito rivolto anche alle persone con l'invito forte che arriva dalla chiesa ad essere meno indifferenti e soprattutto a non avere sempre il dito puntato. Diventiamo tutti tuttologi ma dovremo uscire anche da quel senso di indifferenza di omertà a volte conosciamo sappiamo situazioni di fragilità che sono accanto a noi e dovremo veramente prenderli a cuore sentire che la sede dell'altro appartiene anche a me bene ha fatto anche Sua Eccellenza il nostro Vescovo Giuseppe in quel messaggio dal titolo Orrore e Pietà sulla amara e triste vicenda di Rocca Piemonte poter dirci che forse è il tempo in cui è più facile giudicare e puntare il dito piuttosto che invece prendersi a cuore anche le situazioni di grande fragilità che sono accanto a noi. Ci fa male in questo momento e credo forse sta a cuore questo senso di individualismo che sta uccidendo proprio il senso di comunità di appartenenza, lo stare insieme. Intanto questa mattina a San Valentino Torio si sono tenuti i funerali di Luana Rainone dopo l'autopsia eseguita sabato la salma è stata restituita ai familiari che hanno potuto così celebrare il rito funebre. I familiari della giovane hanno ringraziato attraverso il proprio legale gli imprenditori che si sono sobbarcati i costi della celebrazione. I sindacati chiedono un incontro al prefetto di Benevento per analizzare la difficile situazione dei trasporti lungo la Benevento-Napoli via Valle Caudina problema che interessa centinaia di pendolari e studenti. Cigelle e Cisle Will hanno chiesto un incontro al prefetto di Benevento al comune e alla provincia per affrontare insieme il problema del trasporto ferroviario lungo la tratta Napoli-Benevento via Cancello binario di proprietà dell'Eab è chiuso da alcuni mesi e in particolare dopo lo svio ovvero il deragliamento di due commogli per cause ancora da accertare. Ora il servizio è effettuato con mezzi sostitutivi ma i sindacati chiedono di capire i tempi di riapertura. Questi tempi di riapertura sono stati rallentati purtroppo dalla Covid perché le lavorazioni che stavano espletando sulla tratta in modo tale da mettere in sicurezza con il sistema di controllo marciatreno. Questa è una cosa importantissima però attualmente oggi allo stato attuale noi teniamo una difficoltà per quando concerne tutta la zona caudina perché è una vasta zona che sarà servita da un servizio sostitutivo e quindi questo servizio sostitutivo va aumentato visto anche le norme anti-Covid. Altro problema sollevato dalla CGL è anche il destino del deposito e officina ferroviaria di Benevento con la dismissione dei treni diesel. Serve convertirlo, spiega in salone. A portare degli accorgimenti all'interno dell'impianto per far sì che domani anche l'IMC di Benevento possa far entrare all'interno i mezzi elettrici così da garantire un futuro anche a quei lavoratori che oggi stanno vivendo una criticità. Fede e folklore a Carpignano in Irpinia si è rinnovata la tradizionale festa in odore della Madonna Nera. Vediamo. È un tramonto bellissimo che sa di speranza a far da cornice nel cielo di Carpignano all'avvio delle celebrazioni per il centenario del crocifisso tanto caro ai padri mercedari. Una ricorrenza, quella dedicata alla Madonna Nera che mai come quest'anno assume davvero un significato particolare. È anche il segno che la croce in qualche modo è preludio è tramonto ma è anche preludio dell'aurora nel senso che nel crocifisso si riassume l'amore di Dio per noi. Quest'anno faccio 50 anni di collaborazione in questa chiesa molto bella della Madonna di Carpignano. Una ricorrenza prettamente religiosa e nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid l'emozione del sindaco di Grotta Minarda Angelo Cobbino. Un momento di grande religiosità che dovrà essere sempre di più coniugato con gli aspetti civili di una comunità. È stato presentato questa mattina a Salerno il progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport un investimento da circa 8 milioni di euro per una struttura di 5 mila posti. La politica salernitana la considera un'occasione storica per completare un'opera incompiuta. Dopo anni di attesa infatti Salerno potrebbe finalmente avere il palazzetto dello sport. Questa mattina alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato presentato il progetto che prevede un investimento di 8,5 milioni di euro per realizzare una struttura di circa 5 mila posti che potrà ospitare sia manifestazioni sportive che grandi eventi. De Luca ha spiegato che la struttura già presente sarà inglobata nel nuovo progetto un intervento che consentirà anche di completare il progetto di riqualificazione della litoranea. Questo palazzetto dello sport che il presidente De Luca ha finanziato con dei fondi residui dalle universie di per 8 milioni e mezzo di euro il palazzetto dello sport che era l'unica opera incompiuta nella nostra città. Un progetto un'ipotesi di progetto suggestiva sono stati anticipati i fondi per la progettazione e credo che in un tempo ragionevolmente breve arco di 5-6 mesi si potrà addirittura cantierizzare l'opera. È una cosa che Sareno aspettava perché è un impianto polivalente che servirà sicuramente allo sport ma servirà anche a momenti spettacolari per concerti per convegni e quant'altro cosa che a Salerno mancava e che finalmente verrà risolta con questa iniziativa. La fame di sport e la voglia di avere un palazzetto era stata sottolineata anche con uno striscione esposto nelle scorse ore dinanzi al cantiere del Palasport. A Benevento terminate le operazioni di aggiornamento della toponomastica con Trada Montecalvo Madonna della Salute dopo anni di attesa tutte le abitazioni della zona avranno il loro numero civico. Difficoltà per le ambulanze a rintracciare le abitazioni ma anche per la semplice attivazione di utenze e servizi. Una serie di disagi a cui potranno finalmente dire addio le tante famiglie di Contrada Montecalvo Madonna della Salute a Benevento dove sono terminate le operazioni di aggiornamento della toponomastica. Ogni casa dunque avrà ora un proprio numero civico. L'iniziativa è stata celebrata nel corso di un incontro pubblico con i residenti della zona alla presenza del sindaco Clemente Mastella. Il dato positivo è che finalmente avranno i numeri civici quindi oggi è una giornata diciamo per loro molto 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 importante è una cosa veramente priva di dignità c'era l'umiliazione di dignità delle persone però ora andiamo avanti speriamo celermente insomma. Arriva a dire le difficoltà affrontate in questi anni dai residenti della Contrada l'assessore all'urbanistica Raffaele Romano è fondamentale soprattutto nella vita odierna avere un numero civico e un indirizzo le difficoltà anche solo per chiedere l'ambulanza Un intervento ritardato anche a causa dell'emergenza Covid ma che adesso proseguirà anche nel resto delle contrade della città Purtroppo arriva in ritardo a me dispiace che anche il Covid ci ha messo un po' su perché eravamo pronti già da qualche mese però questo è l'inizio di un lungo percorso perché le contrade sono circa 80 e il territorio di Benevento purtroppo è molto esteso questa ormai è risolta diciamo adesso ricominceremo con le altre contrade per le quali altre 29 strade che si aggiungeranno a queste di Montecalvo per le quali la prefettura ci ha dato il nulla osta e quindi partiremo nei prossimi giorni è tutto per questa edizione in regia Orlando Matarazzo adesso ci sono le previsioni del tempo grazie per averci seguito arrivederci a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.